È stata una delle figure politiche più importanti della storia valtellinese, interprete di quella grande tradizione democristiana del dopoguerra che ha avuto i precursori Ineziovanoni e Atos Valsecchi e che dopo di lui non ha più trovato continuatori di altrettanto valore. Eugenio Tarabini si è spento oggi a Sondrio all'età di 88 anni, era nato a Morbegno il 2 maggio 1930. Avvocato di sapienza giuridica sopraffina e rigorosa, comunemente era chiamato da tutti con un misto di ammirazione e riverenza senatore, sebbene in realtà avesse trascorso più anni del suo lungo cursus honorum tra i banchi della Camera dei Deputati, ben 15 in quattro legislature, prima dal 68 al 76 e poi dall'87 al 94, in mezzo tre mandati a Palazzo Madama dal 76 all'87. In tutto sette legislature e un totale di 26 anni ininterrotti fino agli albori della Seconda Repubblica. Per nove volte tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90 è stato sottosegretario di Stato al Tesoro nei governi guidati da Andreotti, Cossiga, Spadolini, Craxi, Forlani e Fanfani. Tarabini era uomo di statue di governo di grande esperienza e competenza nelle materie economico-finanziarie. Se la lunga carriera politica lo trattenne per oltre un quarto di secolo a Roma, non da meno fu la sua costante attenzione al territorio, a quella valtellina di cui incarnava l'Indole, taciturna e operosa. Alla fine degli anni 90 fondò il movimento dei popolari retici, dando corpo a quell'aspirazione di autonomia, già riconosciuta dai Inaudi, che sognava per la provincia di Sondrio e interamente montana il rango di regione a statuto speciale, come la Val d'Aosta. Nel 99 fu eletto presidente della provincia. Uscito dal lagone politico nel 2004, quando non gli riuscì la rielezione a Palazzo Muzio, Tarabini ha sempre mantenuto intatta e unanimemente riconosciuta un'autorevolezza che gli derivava dal prestigioso passato e anche dalla visione sempre lucida del presente e del futuro. Esponente di un pensiero cattolico moderato e di una concezione della vita pubblica e privata che fondava i suoi valori su un tutt'uno di politica, etica e fede, prassi e pensiero, Tarabini per il centrodestra era ancora oggi una figura carismatica di riferimento. Tra i primi ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa il prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, addolorato e triste per la perdita di quello che considerava un altro padre. Ti ricorderò sempre per la tua forza, i tuoi insegnamenti e i tuoi racconti, ma anche l'amore per il tuo territorio, scrive in una lettera immaginaria all'amico scomparso. Sei stato un capolavoro duomo. Preceduti da un rosario in programma domani sera alle 19, i funerali di Eugenio Tarabini si svolgeranno lunedì alle 16.30 in collegiata.